Vi presento l'amministratore, Sergio Leone non l'ho mai presentato, è uno del mestiere, è un amministratore ma viene dall'ambiente del calcio da quando è nato, giusto? Hai fatto tutta la carriera. Di tutti quelli che tenevo vicino, tutti i ladri vecchi, l'ultimo che mi è rimasto pulito era lui, ve li posso nominare tutti quando lo schiavo, quando dico questo, sempre documentato. Vi posso dire che a me è combinato lo schiavo, quello che è venuto a foggere, come si chiamava? Quello piccolino, per gli barami mestieri che ci rubò? Non è morto, è vivo, è vivo, come si chiama? Vuoi dire i nomi? Una questione di Avellino. Di Avellino, comunque andiamo avanti.